Siamo qui a Piazzale del Flaminio a completare e a continuare la nostra avventura iniziata il 13 dicembre per la raccolta di firme che abbiamo avviato per dare la possibilità ai cittadini di scegliere se uscire o meno dall'euro. È una grande opportunità per ridare al nostro paese sovranità monetaria, quella sovranità monetaria che abbiamo perso con la moneta europea che secondo noi ha portato tanti danni al nostro paese. È una grande opportunità, stiamo completando questa operazione per dare la possibilità ai cittadini di approfondire l'argomento e di scegliere una volta tanto informati. Quindi siamo, ripeto, qui a dare un'opportunità alla cittadinanza. Venite a trovarci, vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.